Come ne sono andate queste regionali e dal punto di vista degli uomini le scelte, come le commenta? Bene, siamo qua per ringraziare i cittadini calabresi. Poi c'è una bella squadra, ho parlato stant'antina con consiglieri, assessore, futuro presidente del consiglio regionale. Penso che sia una giunta fatta velocemente, donne e uomini in gamba. Abbiamo parlato di lavoro, di infrastrutture, di sanità, di disabilità. Abbiamo chiesto con forza al presidente Occhiuto e lo ringrazio per averci dato fiducia di occuparci di volontariato, di disabilità, di politiche sociali, di famiglia, di sicurezza. Quindi non vedo l'ora di cominciare anche perché a differenza di due anni fa quando arrivammo per la prima volta abbastanza inesperti, adesso siamo pronti a partire da subito, ci sono diversi sindaci che sono pronti ad aderire alla Lega, al progetto Lega, quindi non vedo l'ora di cominciare. E partiticamente la Lega va a congresso, sì? Ci sono congressi cittadini in tutta Italia a partire da dicembre, covid permettendo perché ovviamente fare i congressi in zona rossa era complicato, però ci stiamo strutturando, l'obiettivo è esserci in tutti i comuni della Calabria, anche perché in primavera voteranno tanti comuni importanti, in provincia di Reggio, di Cosenza, voterà Catanzaro e quindi ho chiesto al centrodestra di partire per tempo e entro Natale di avere tutti i candidati in pista. Dicevamo di Reggio un ruolo nazionale per Nino Spirli ha detto, ci dice di più?